Tornati in un nuovo video di FIFA Qua siamo qui prendi ad aprire i pacchetti Weekend League e tutti i Champions Allora, prima di iniziare Questa è la mia vestaglia Come chiunque sa, chiunque apre i pacchetti Di FIFA da anni ha una vestaglia molto fortuna Io voglio provare con la mia Sperando che sculiamo questa settimana La squadra della settimana è questa qua Potete vedere sta Valenzinzini Pogba, Müller Meglieterra che spica molto di più E poi Don Belè e Marella Allora, spero di trovare alcuno Abbastanza Vulo che così non lo sa che E ne ho una bella carta Un bel pacchetto anche Allora, apriamo Nessun pacchetto, ve lo scrivo già Apriamo solo i periodi e poi Apriamo Perché stiamo conservando la settimana Dovete uscire anche i toti Fra un giorno o due giorni Noi siamo venuti a giovedì Cioè manca poco Dovemmo aprire un pacchetto A icona base Fatto dopo un po' di tempo Dovemmo anche a inviare la sfida Abbiamo fatto oro 3 Allora, bene bene, assoluto Sono iniziato alla stragrande Avevo fatto una delle prime 15 partite Alla stragrande Gli ultimi 15 sono calato In una maniera incredibile Drasficamente proprio Avevo fatto un botto Dico bellissimo Mi è piaciuta tantissimo Poi non ho calato gli ultimi 15 E questo mi dà molto dispiacere Perché volevo puntare a fare qualcosa in più Però non fa in più Andiamo con questi tre Andiamo con il primo Speriamo di trovare il giusto No, ci dava l'ottantuno Il fortito di violare Ci mancava che non ce lo dava Il fortito ce lo deve dare Importante Andiamo con l'ultimo Andiamo con il terzo Dai, 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 dai Ok Ci dà Jovic Se no mi dico Date questo Jovic Cerco, lo daremmo a dire Come è passato All'alto Francoforte Una parte 20 minuti di partita Dobbietta Va bene Comunque ce lo premiamo Non è male Non è tanto addio Può che da darci qualcosa in più Sì Però non ci rammagheriamo Perché questo è solo un inizio Perché abbiamo Il pacchetto Icuno a base da aprire Andiamo subito nella sfida Scambi Il pacchetto Icuno a base E ve la invio adesso Poco davanti a voi Ecco qua Bello 8 giocatori E' stata molto facile Di davanti a forse quella online Un po' su tryhardata Però Molto easy Fatta la sfida Icuno a base E ci andiamo anche ad aprirla Icuno a base Ormai Non posso far più niente Apriamo Icuno a base Abbiamo 29 pacchetti 28 O meno l'Icuno a base Più altri pacchetti Fatti in una settimana Fine che non avremmo L'ultimo Prima di tolte Allora Dove sta il pacchetto Icuno Icuno a base Ecco qua Allora vi dico Mi piacciono Tutte le icone S'è andata la fine Sono icone Sono semi portali Speriamo che porta Porto Beh Asiliana Tutti Asiliani Tutti i giocatori Mi piacciono Argentina Tutti tranne Forse l'attaccante Il crespo Che non mi serve tanto Italiana Quasi nessuno Anzi Solo la difesa Forse tra i due centrali E il terzino destro E In Olanda Tutti Tranne Forse Un po' la difesa E Basta Penso L'esterno Ci sto Oquemars E Po' che dire L'attra nazionalità Sono così E così Tranne alcune Che sono buone Altre Non c'è una nese Però Noi lo apriamo E ce lo può dire Apriamo Allora Ci mancava È bianca Bianca Dai di bene Ma la salata è buona Kulax No Kuskos Kuskos Mamma mia Che cazzo Questo Mamma mia C'è una nese Cosa Con lì Questa E questo Dove essere Di una base 89 Unione di quelle Base Sono le più forti Che c'è Bellissima Bellissima Se Si tolare Di metto C'è squadra Tu ho trovato A fare Le civile Farete Molto veloce Ma Tu ti dico Faccio Il passaggio Ti metto Una catalizzatura Per Giorare Ci lo mette Hai paura Bellissimo Così Mi piace Così Mi piace Così Deve Quanto Costa Costo 1.800.000 Cosco Mamma mia 1.700 Bellissimo Bellissimo Il titolare Non mi frega Niente Di atti Mamma È bellissimo Per farvi contento Dobriamo anche Ce l'apriamo Un altro Ce l'apriamo Giustamente Dobbiamo concludere Col bus Così Poi Concludiamo Un altro Perché Non fa niente Se non è Workout Abbiamo L'Icuna Che ci salva Nella Lavagna Ci accoppi Il diamo Non fa niente Quello che Porto Valla Anzi Raffa Di quello che Si sa Archerano Stamattina Ok Concludiamo Con Un po' di giocatori Raffa Vediamo Quanto costo Ti rindo Mai Gi'è passato Comunque Concludiamo Qua questa settimana Abbiamo trovato L'icona Penso Buscas Più forte Che c'è Di baby E che dire Ci vediamo La settimana Qua sono Altri premi E Un botto Di pacchetti Per i toti Sperate Trovi almeno Un toti Gustoso E Molto Buono Per me E la mia squadra Ci vediamo La settimana Se vi è piaciuto Lasciate il like Solo per questo Pacchetto di coni Like Capali Iscrivetevi al canale Dovevamo crescere ancora E ciao a tutti